Una campagna informativa sulla gestione dei rifiuti a partire dal conferimento e fino allo smaltimento caratterizzerà le prossime settimane della città di Nocere Inferiore. Il sindaco Maglio Torquato ha disposto una task force per informare la città, quartiere per quartiere, condominio per condominio, circa le modalità di conferimento, le dotazioni a disposizione dei cittadini e infine in merito alle sanzioni che pioveranno in caso di irregolarità. Un'operazione preventiva in vista dell'emergenza che scatterà a settembre con lo stop dell'inceneritore di Acerra. In questo modo non potranno più esserci alibi. Informeremo sia l'utenza commerciale che domestica su come procedere al conferimento del materiale come d'attuale calendario e su quali limitazioni saranno introdotte, ha spiegato il primo cittadino di Nocere Inferiore. Intanto Maglio Torquato sta compulsando la Nocera Multiservizi affinché venga ripulita la città dai cumuli di spazzatura che si sono formati negli ultimi dieci giorni. Questa mattina le operazioni sono proseguite nei quartieri periferici. Le attività di pulizia e di raccolta sono realizzate anche grazie all'integrazione dell'unità di personale necessaria a sopperire quello in ferie e, ha precisato il Sindaco, limitatamente a tale periodo. Inoltre sono state avviate a definizione le procedure per l'acquisizione dei nuovi mezzi. Da oggi intanto è ripresa la distribuzione gratuita ai cittadini delle buste per la raccolta differenziata. Si invitano tutti i nocerini e i gestori delle attività commerciali, ha scritto Torquato sulla sua pagina Facebook, a munirsi delle buste regolari per la raccolta differenziata in distribuzione e soprattutto a rispettare giorni e ore in materiali di conferimento dei rifiuti. E' partito intanto il lavaggio di strade e cassonetti.